La seconda prova della maturità La prova d'inglese cavalca l'onda del film di Buzz Lurman, poiché prevede un brano di The Great Gatsby. E poi Pedagogia al pedagogico, disegno geometrico, prospettive architettura all'artistico, economia aziendale per il tecnico commerciale ed un brano sulla recessione economica per le scienze sociali. Per quanto riguarda gli istituti tecnici, sono state scelte prove di dimensione pratico-laboratoriale. Anche quest'anno, naturalmente, non è ammesso l'uso di cellulari, iPhone e altri supporti tecnologici. Concesso il dizionario e calcolatori basic. Già presenti su tutta la rete i quesiti con le relative soluzioni e traduzioni. Fissata per il 24 giugno la temutissima terza prova, che anche stavolta prevede test multidisciplinari di varie tipologie, delle materie non inerenti alle prime due prove.